Finalmente avevamo intorno al tavolo tantissimi giornalisti. Esiste un prima e un dopo, da dopo la pandemia praticamente avere intorno allo stesso tavolo e neanche in una platea, ma proprio intorno a un tavolo, che non era rotondo ma solo casualmente. Delle persone realmente interessate all'argomento, persone che lavorano nelle redazioni ma che sentono questo tema a livello personale, a livello umano, prima ancora che professionale. È stato bello, è stato bello anche rivedere amici che non vedevamo da tantissimi anni, è stato bello conoscere per esempio direttori nuovi di Testate che invece noi frequentiamo da tantissimi anni e invece non abbiamo mai avuto l'opportunità di incontrare di persona perché secondo me hanno colto che per noi seguire il tema del benessere digitale, ma ce lo aggiungo come aggettivo, ma in realtà il tema del benessere è vitale. È vitale perché ci stiamo rendendo conto che purtroppo il digitale ha portato molto malessere e siccome ce ne sentiamo anche causa in prima persona, perché ci sentiamo di aver contribuito a diffondere alcuni meccanismi perversi anche del digitale, questo per me è stato un momento di grande, quasi di catarsi oserei dire, per cui farlo insieme ad alcuni giornalisti con cui da decenni ci troviamo a scrivere pagine da mondi differenti, insomma ci ha confermato che la direzione è quella giusta e poi farlo con un amico che ormai io conosco da pochissimo tempo, Alessio, però lo sento a livello energetico, non è scontato. Lo stesso schema l'avevo provato a fare con altri clienti, purtroppo non ha funzionato perché secondo me i giornalisti si rendono conto se quello che tu stai provando a diffondere è una connessione reale oppure se sono solo parole.